Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie 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 a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 e... a tutti. ... e... a tutti. e... se voglio... e... niente... ... dimmi...